Siamo onerati come Confindustria e Pesaro Urbino di avere ospite il generale Mario Mori e il colonnello De Donno. Inaugurano una serie di incontri all'interno del gruppo terziario avanzato dove verranno affrontate le tematiche, oggi parleremo di geopolitiche, di scenari internazionali e di quelle che sono le problematiche relative all'organizzazione di missioni commerciali all'estero. Come terziario avanzato vogliamo proprio approfondire le tematiche dei servizi dedicati alle imprese con tutto anche gli argomenti legati alla cybersicurezza, tema estremamente attuale visto i momenti che stiamo vivendo. Tutto il contesto geopolitico è cambiato, quindi anche le imprese andando all'estero devono pianificare bene la missione, perché i rischi, i problemi e chiaramente le norme giuridiche impongono una visione completamente diversa. Quindi oggi cercheremo di dare qualche indicazione su come ci si organizza per andare in paese all'estero, soprattutto se sono ad alto rischio. È un momento molto significativo perché c'è un'effervescenza complessiva veramente notevole. La crisi russo-ucraina ha creato e sollicitato altre situazioni di crisi e è necessario che un po' tutti, anche il mondo imprenditoriale, quello che si muove nel mondo, che cerca di fare affari, ha la necessità di conoscere e sapere.